In principio erano 44 su 104 i sindaci della provincia di Chieti che questa mattina hanno risposto all'appello per l'elezione del nuovo componente del Comitato Ristretto dei Sindaci dell'Asla di Chieti, già composto da Diego Ferrara, Sindaco di Chieti e Presidente del Comitato, e Francesco Menna, Massimo Tiberini e Giulio Borrelli, rispettivamente sindaci di Vasto, Casoli e Atessa. L'Assemblea, riunita questa mattina presso l'Auditorium Gianfarani di Chieti, è stata chiamata a sostituire Mario Pupillo, ex Presidente della provincia ed ex Sindaco di Lanciano, decaduto dal Comitato dopo la fine del suo mandato da primo cittadino e sostituito infine questa mattina da Leo Castiglione, Sindaco di Ortona di Espressione Civica, eletto con 354 voti in modalità ponderata e col sostegno del centro-sinistra al limite del numero minimo legale. Già a metà mattina, infatti, il numero degli eventi diritto presenti in Assemblea era sceso da 44 a 35, numero minimo per far valere la seduta, dopo che Donatello Di Prinzio, Sindaco di Guardia Grele, aveva espresso la propria candidatura quale esponente di centro-destra, affiancandosi di fatto a Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano, sostenuto nel centro-destra da Antonio Tavani, Sindaco di Farasan Martino e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che, in dissenso con Di Prinzio, ha abbandonato la seduta insieme ai suoi sostenitori. Alla fine a spuntarla è stato il civico Leo Castiglione con 354 voti contro i 59 di Di Prinzio e un astenuto. Io mi batterò come tutti i miei colleghi per far sentire tutti i cittadini di Serie A, garantire a tutti il diritto alla salute, essere vicini alle persone che ne hanno bisogno, e quindi dare molta attenzione a quei territori che sono purtroppo penalizzati per la posizione logistica. Bisogna lavorare insieme perché le piccole realtà sono da supporto e sono anche un vantaggio per le grosse realtà. Anche per questo il suo voto simbolico è stato dato proprio al suo sfidante, di fatto, il Sindaco di Guardia Grele di Prinzio? Certamente, è stato un voto sentito perché, a parte l'amicizia che mi lega a Donatello, ma Ortone e Guardia Grele hanno vissuto molto spesso situazioni molto simili e quindi dare attenzione, ripeto, all'entroterra è molto importante. Donatello Di Prinzio, Sindaco di Guardia Grele. Guardi, la mia candidatura viene già dal mese di giugno, quando alla rielezione di tutti i componenti del Comitato del Stetto dei Sindaci, il mio nome fu portato avanti dal centrodestra, anche se poi in quell'occasione non ci fu un accordo politico perché lì si parlava di accordo politico e molti abbandonarono l'aula e anch'io poi uscì fuori. Oggi, coerentemente, sono rimasto sulla mia linea, sono rimasto in aula per votare, essere votato e per accettare anche il verdetto della votazione. E se in vista delle imminenti elezioni provinciali di sabato 18, con il Sindaco di Vasto Francesco Menna candidato alla presidenza della provincia per il centrosinistra, L'elezione odierna di Castiglione, quale componente del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL, candidato civico, sostenuto dal centrosinistra, è stata letta come un accordo politico che potrebbe spingersi anche fino alla prossima primavera, quando il Comune di Ortona sarà chiamato al voto a rinnovare la propria amministrazione cittadina, il Sindaco Diego Ferrara, Presidente del Comitato dei Sindaci della ASL, smentisce tutto. Ortona e le zone limitrofe con l'ospedale di Ortona rappresentano una parte considerevole della provincia di Chieti che finora non era stata considerata nell'ambito del Comitato Ristretto. Castiglione è da anni che porta avanti una battaglia di preservazione del proprio territorio, del proprio ospedale. Massimo Tiberini, Sindaco di Casoli, fa parte anche lei del Comitato Ristretto dei Sindaci per l'ASL di Chieti. Questa scelta di Leo Castiglione le è piaciuta? Assolutamente sì, ma allo stesso tempo sabato sarò a difendere gli interessi della sanità territoriale a Guardia Grele al fianco del sindaco di Guardia Grele e di tutti i cittadini di Guardia Grele e del territorio.